Nuova vita per Rocca Costanza. Uno dei luoghi simbolo più riconoscibili della città di Pesaro sarà ristrutturata e trasformata nei suoi utilizzi e nella sua fruibilità alla cittadinanza. Oggi nel comune di Pesaro è stato infatti perfezionato l'accordo fra l'amministrazione e agenzia del demanio, ministero della cultura e soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio che concretizzerà un imponente lavoro di ristrutturazione che prevede nel 2022 il completamento di lavori di funzionamento strutturale attualmente in fieri per poi preparare il via a alcuni cantieri nel 2023 con data di fine lavori previsti nell'autunno del 2024. Lavori che prevedono una svolta in senso museale con il trasferimento negli spazi della Rocca dell'archivio di Stato attualmente in via della Neviera oltre a tutta una serie di accorgimenti che vanno nella direzione della maggiore fruibilità della Rocca che sarà pensata per eventi e iniziative culturali. Ad esempio ci sarà la ristrutturazione del fossato, dell'atrio e la creazione di una seconda uscita di sicurezza. Lavori che avranno l'agenzia del demanio come stazione appaltante di opere che metteranno assieme 3 milioni e 600 mila euro dallo stesso demanio, 1 milione e 400 mila euro dal ministero che si aggiungono ai 600 mila già appaltati per il 2022 più la quota parte del comune di poco superiore ai 400 mila euro. L'obiettivo è rendere Rocca Costanza un luogo non solo bello ma un luogo vivo, un luogo non solo da vedere dall'alto ma da vivere dall'interno. Una parte importante diventerà luogo culturale della città con la possibilità di eventi, di utilizzo del fossato e anche l'archivio di Stato diventerà sostanzialmente un museo, quindi un grande investimento, altre risorse che vengono da Roma verso Pesaro e un contributo fondamentale per la crescita artistico-culturale della nostra città. Per noi è importante il completamento e la fruizione perché è evidente che è un simbolo della città, Rocca Costanza, negli ultimi anni prima del Covid l'abbiamo vissuta sempre di più e con questa seconda apertura che sarà a carico del comune, una seconda uscita di sicurezza, potremmo alla Rocca ospitare anche tanti eventi culturali. L'accordo ha messo al tavolo del sindaco Ricci il responsabile regionale del demanio Cristian Torretta, l'architetto Simona Guida della sovrintendenza e il direttore dell'archivio di Stato di Pesaro Urbino Sara Cambrini. Un accordo suffragato a distanza dalla direttore generale dell'Agenzia del demanio Alessandra Dalverme e da Anna Maria Buzzi Maola Sciri in rappresentanza del Ministero della Cultura. I lavori del demanio inizieranno da quello che ha detto il dottor Torretta 2023 fino al 2024. La sovrintendenza con il segretariato regionale viceversa sta facendo i lavori alla Rocca Costanza e li farà per tutto il 2022 perché dobbiamo portare a completamento i finanziamenti che sono rimasti in capo a noi e come vi dicevo farà in modo di trasferire il bene all'Agenzia del demanio per la conclusione dei lavori. Noi ci occuperemo sostanzialmente dei lavori di stretta competenza, quelli più relativi ai restauri e ai consolidamenti, gli ultimi che ci sono da fare per poi lasciare diciamo all'Agenzia del demanio tutta la sistemazione delle finiture e delle ultime cose insomma. Mentre la direzione generale archivi si occuperà con un finanziamento dedicato a tutta l'allestimento dei depositi degli archivi. Tanto per cominciare non abbiamo firmato un protocollo ma un accordo, un accordo vincolante per tutte le parti quindi nella team della squadra che porterà avanti l'attività ci saranno sia elementi del comune che elementi del del Ministero dei beni culturali e l'obiettivo è quello di superare qualsiasi inciampo inconveniente che può capitare in corso d'opera e garantire che entro capodanno 2024 una parte della festa si faccia all'interno della Rocca. Un onore per l'Agenzia del demanio partecipare a questo accordo che ci consenterà di essere elemento acceleratore di un percorso che hanno iniziato i beni culturali anni fa e che porterà finalmente Rocca Costanza ad una nuova vita. Grazie a tutti. Grazie a tutti.